Il biglietto da visita della città collegato ai principali servizi che presto sarà oggetto di lavori di ulteriore ampliamento e che dalla sua nascita, era il 1984, è riuscito a diventare un punto di attrazione non solo per i titolari di barche ma anche per gli sportivi ed è un prezioso sostegno alle forze dell'ordine che qui, come ha evidenziato il direttore Bruno Santori, hanno un presidio delle loro squadre immersive e il porto turistico Marina di Pescara è una realtà imprescindibile per l'economia e il turismo della città. Ospitiamo le unità della Guardia Costiera unitamente a quelle anche della Guardia di Finanza, dei Carabinieri Subacquei e stagionalmente Vigili del Fuoco, Polizia e Croce Rossa. Quindi questo porto è anche un polo della sicurezza importante per tutta questa fascia costiera del centro Abruzzo. Grazie ai suoi mille posti barca e a un'area estesa su 270.000 metri quadrati tra parte a terra e specchio aqueo, è una delle strutture più grandi dell'Adriatico. La bandiera blu è issata stabilmente dal 1990, cioè da due anni dopo l'arrivo delle prime imbarcazioni e il porto Marina di Pescara è anche teatro di eventi musicali e sportivi di grosso rilievo. Qui peraltro è stato inaugurato nel 2019 il primo impianto di padel di Pescara a occuparsi della struttura e il presidente Carmine Salce insieme al direttore Santori. Noi siamo un cosiddetto porto residenziale, nel senso che la maggior parte dei nostri utenti sono persone che vivono in Abruzzo o vivono comunque in altre località italiane e trovano comodo lasciare la barca a Pescara perché a Pescara trovano intanto la facilità dei collegamenti e poi i servizi e tutte quelle attività che sono necessarie per la corretta custodia e manutenzione dell'imbarcazione. Grazie a tutti. Grazie.